F1 2017, disponibile a fine agosto su PC, Xbox One e PlayStation 4, è il nuovo racing game della scuderia Codemasters e segnerà un tassello evolutivo importante per l'intero franchise. I miglioramenti rispetto alla soddisfacente edizione 2016 sono da ricercarsi in primis nel gameplay e nella fisica, con una scalabilità ancora più marcata, che ben si adatta sia a neofiti quanto e soprattutto ai professionisti dei simulatori di guida. Rivisto il modello di guida, più realistico e capace di comportarsi in maniera più variegata, a seconda delle circostanze o in occasione delle collisioni, così come è stato profondamente rivisto il comparto multiplayer, ora al passo con i tempi e più ricco di modalità. Tornano le auto classiche, fra cui 4 Ferrari storiche e ufficiali, utilizzabili anche durante una carriera costruita secondo canoni più attuali e vibranti. Nuovi modelli di auto, nuove componenti della Power Unit sviluppabili e deteriorabili gara dopo gara, diverse varianti degli stessi circuiti, rendono F1 2017 un must imprescindibile per gli appassionati del circus della Formula 1.